Sono Francesco Calogero, sono qui per presentare un documentario ho girato sui set siciliani dei tre padrini di Francis Ford Coppola che si chiama Nella terra del padrino ma coglierò anche l'occasione per mostrare un promo reel del mio nuovo film Seconda Primavera che uscirà a ottobre nelle sale è la storia di un architetto cinquantenne in crisi professionale, sentimentale, esistenziale tutto il mondo Poco alla volta questo ghiaccio che c'è attorno al suo cuore si andrà sciogliendo e questo avviene grazie a un incontro ma soprattutto grazie a un giardino è una sorta di quinto personaggio nel film ci sono quattro personaggi principali che raccontano le quattro stagioni della vita e poi c'è questo giardino in cui i personaggi si finiscono per ritrovare e che gli darà un nuovo impulso per riprendere il cammino della sua vita Un saluto dal Festival Città di Frontera